Ciao bimbi, un saluto dalla maestra Elisa e dalla maestra Antonella. Oggi vogliamo proporvi un gioco nuovo. Si chiama Contiamo gli oggetti trovati. E vedete quei bimbi quanti oggetti hanno trovato! E quanti bei colori! Rosso, verde, giallo, blu! Oh, vedo anche un bimbo in uno scatolone. Cosa ci fai lì? Dai, vieni a giocare con noi! Vi ricordate il colore dei nostri amici Folletti? Adesso loro sono nuovamente nella loro casetta. E tutti felici e contenti. Abbiamo blu lacrimoso, bianco sputacchione, azzurro stuporello. Verde tremolino, giallo gaietto e rosso scatto. Dovete scegliere il colore del Folletto che vi è piaciuto di più. Quindi, prendete un recipiente del colore che avete scelto. E ovviamente può essere o di plastica o di cartone. Se non l'avete colorato, lo potete colorare voi. Oppure fasciarlo con della carta colorata. Quindi, prendete un orologio o un cronometro. E se non avete il cronometro, lo potete trovare sul telefono del papà e della mamma. Che vi serve per cronometrare il tempo che avete stabilito. Chiedete al papà o alla mamma di giocare con voi se non avete dei fratellini. E sicuramente si divertiranno un mondo. Quindi, siete pronti per iniziare il gioco? Avete tutto? Siete sulla linea di partenza? Uno, due, tre, via! Gambe in spalla e cercate velocemente gli oggetti che hanno il colore del recipiente scelto. Vedete di non sbagliarvi, ok? Chi troverà più oggetti del colore scelto avrà vinto. Buon divertimento, un saluto dalla maestra Antonella e dalla maestra Elisa e a presto, bimbi! Grazie a tutti!